ok sono ufficialmente arrabbiato e lo dico per davvero e dall'altro lato sono anche contento ti spiego subitissimo i motivi sono arrabbiato per la sospensione che reputo assolutamente ingiusta ed immotivata del nostro canale principale gentiluomo digitale ma sono anche contento della reazione che ha avuto la nostra community perché se in questo momento stai guardando il nostro video sul canale secondario il lato oscuro che per fortuna avevamo creato significa che tutto ha funzionato a dovere in caso di emergenza effettivamente la reazione della community è stata compatta ci siamo spostati tutti quanti qui ma è fondamentale rimanere lo sai che non lo dico mai iscritti ad entrambi i canali e quindi sia gentiluomo digitale che al lato scuro e usare tutti gli altri strumenti di comunicazione che nel tempo abbiamo messo su e quindi naturalmente il forum sul sito gentiluomo digitale punto it la nostra chat e il nostro gruppo su telegram e poi tutti quanti i canali di comunicazione secondari come instagram e tiktok ti lascio comunque tutti quanti i riferimenti qui giù in descrizione in modo tale che non ci sarà modo di perdersi neanche un contenuto anche quando ci fanno qualche sgambetto ma veniamo all'argomento di oggi che mi fa non meno arrabbiare perché a quanto pare a qualcuno ha dato veramente di volta il cervello ed è successa una cosa letteralmente senza precedenti ma parliamo subito dell'argomento del giorno e quindi se ti senti pronto iniziamo pure oggi disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va spero davvero che ti piaccia il nuovo formato zero sigla iniziale un breve disclaimer perché non sia mai che ci dimentichiamo il nostro rituale apotropaico e poi si va dritti sparati all'argomento del giorno e l'argomento del giorno di oggi è un qualcosa di veramente scottante perché quando ho letto questa dichiarazione di microsoft ho fatto un salto sulla sedia alto così non so se sono entrate tutte e due le mani nell'inquadratura ma ti garantisco che il salto era bello alto perché a quanto pare hanno deciso di tagliare dal supporto windows 11 24 h 2 una serie di processori anche decisamente nuovi moderni e performanti e questo creerà una serie di problemi letteralmente a milioni di utenti in tutto il mondo soprattutto adesso che saremo tutti quanti costretti a partire dal mese di ottobre a passare a windows 11 nella versione naturalmente 24 h 2 vediamo che è successo tutto iniziato con la lettura di questo articolo molto recente pubblicato sul sito ufficiale microsoft l'articolo infatti è del 13 febbraio 2025 e si intitola windows 11 versione 24 h 2 processori intel supportati ho dato un'occhiata a questo lunghissimo elenco come vedi che ti risparmio per carità di patria ma una cosa mi è balzata immediatamente all'occhio in questa lista di processori compatibili mancano la stragrande maggioranza dei processori attualmente installati sulle macchine letteralmente di tutto il pianeta all'inizio ho pensato ad un refuso e così ho pensato bene anche di fare una ricerca su qualche sito internet per cercare di capire la verità ma quello che ho trovato non mi è piaciuto affatto ne hanno parlato infatti praticamente le riviste di tutto il mondo a partire dal mitico tom's hardware che titola i processori di ottava nona e decima generazione sono assenti dalla lista di cpu supportate di windows 11 24 h 2 ne ha parlato il nostro hardware upgrade che titola windows 11 24 h 2 aggiornate le liste dei processori supportati cosa cambia tra cpu intel e amd perché come vedremo questo fenomeno tocca amd e ne ha parlato anche la rivista il software che invece titola windows 11 non supporta più i chip intel di decima generazione e naturalmente anche quelle precedenti e allora cerchiamo di capire bene e come ci tocca da vicino questa cosa proprio leggendo quest'ultimo articolo che ci dice che microsoft ha recentemente aggiornato la lista ufficiale delle cpu supportate da windows 11 24 h 2 e che inaspettatamente i chip intel core di ottava nona e decima generazione sono stati completamente rimossi dall'elenco sollevando dubbi e preoccupazioni tra gli utenti e gli operatori del settore suggerisce in realtà di dare un'occhiata alla pagina dei processori intel che è quella ufficiale che ti ho appena mostrato non a caso questa viene definita infatti una scelta drastica che penalizza cpu ancora performanti infatti l'esclusione di questi processori relativamente recenti sembra davvero una decisione molto drastica considerando anche il fatto che molte di queste cpu e in particolare i modelli di fascia alta continuano ad offrire obiettivamente ottime prestazioni e quello che rende la situazione ancora più sorprendente e il fatto che cpu molto meno performanti come ad esempio il celeron 6305 rientrano ancora nella lista di compatibilità di windows 11 24 h 2 boh ma quello che è fondamentale notare è che quest'ulteriore innalzamento dei requisiti minimi richiesti per installare windows 11 potrebbe impedire agli utenti di aggiornare anche alle versioni successive di questo sistema operativo non solo di migrare a windows 11 da una precedente installazione di windows 10 chi ad esempio infatti ha già installato la 24 h 2 potrebbe vedersi impedito il passaggio al futuro windows 11 25 h 2 sulle macchine che sono dotate di cpu intel ormai non più supportate ma quello che come al solito lascia basiti è l'assenza di spiegazioni ufficiali da parte di microsoft infatti attualmente microsoft non ha fornito alcuna spiegazione sui criteri che ha adottato per escludere queste cpu dalla lista di quelle supportate l'unica indicazione ufficiale fornita afferma che per il futuro leggo testualmente quello che dice microsoft i processori successivi e le future generazioni che soddisfano gli stessi principi saranno considerati supportati anche se non esplicitamente elencati insomma la solita supercazzola che vuol dire tutto e niente e che può essere rimangiata in qualsiasi momento tuttavia rimane un barlume di speranza dato che anche il software è d'accordo sul fatto che l'assenza di un preavviso oppure di una comunicazione chiara lasci aperta la possibilità che si tratti di un errore tuttavia va considerato anche il fatto che intel recentemente ha declassato il supporto driver per le gpu ovvero per le schede video o meglio per i processori video integrati di tutte queste generazioni di cpu e questo rende plausibile l'ipotesi che microsoft in realtà si sia semplicemente allineata alla nuova strategia adottata da intel infine una cosa che lascia decisamente straniti è quella che è successa con le cpu di amd perché parallelamente l'aggiornamento di questa lista ha visto l'aggiunta dei chip amd ryzen 8000 mentre non c'è assolutamente nessuna menzione dei processori ryzen 9000 e ryzen ai mobile decisamente più nuovi e performanti misteri della microsoft ma allora cosa devo fare come mi devo comportare beh il primo consiglio che ti do è quello di non perdere la calma e il tuo aplomb di gentiluomo detto questo facciamo un piccolo punto della situazione perché si tratta di una situazione che abbiamo già visto verificarsi più e più volte in passato non ultima quella in cui è uscito o meglio stava per uscire windows 11 24 h 2 che sembrava dover essere installabile solo su macchine con requisiti letteralmente stellari come abbiamo visto poi così non è stato e siamo riusciti a farlo girare anche su macchine più datate a patto che non fossero veramente decrepite magari lo riconosco anche utilizzando degli strumenti non proprio ufficiali di microsoft ma detto questo va anche considerato un altro aspetto perché a breve e precisamente il 25 ottobre di quest'anno tutti quelli che montano windows 10 sulle proprie macchine saranno costretti a cambiare sistema operativo per questioni di sicurezza perché windows 10 non verrà più supportato da microsoft e non verranno rilasciate le fondamentali patch di sicurezza un'altra cosa da fare è capire se questa situazione effettivamente tocca o meno anche il tuo computer e in questo senso devi sapere esattamente di che generazione è il tuo processore è quello che voglio fare immediatamente e mostrarti come scoprirlo in maniera estremamente semplice tutto quello che dovrai fare sarà semplicemente portarti in basso fare un clic sul tasto start e successivamente andare ad aprire le impostazioni del sistema una volta aperte ti porterai sul lato sinistro ed individuerai la seconda voce quella che si chiama sistema aprila e fatto questo scendi fino in fondo a questo elenco all'ultima voce che si chiama per l'appunto informazioni sul sistema cliccaci per aprirla e fai riferimento al secondo dato che ti viene fornito in questa schermata che riguarda per l'appunto il processore nel mio caso come puoi vedere si tratta di un processore intel di tredicesima generazione sono interessati da questo problema i processori dalla decima generazione in giù e quindi se hai un processore di decima nona ottava eccetera 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 verso il basso potresti avere qualche problema in futuro ma stai assolutamente tranquillo perché su macchine ragionevolmente performanti come ho già detto siamo sempre riusciti a porre rimedio a queste situazioni e a far girare gli aggiornamenti più recenti se invece hai un processore di undicesima dodicesima tredicesima generazione ed oltre puoi dormire sonni tranquilli perché mamma microsoft ti vuole ancora bene la senti anche tu questa vocina lontana lontana che dice passo a linux va bene vorrei avere un euro sicuramente per ogni volta che ho sentito questa frase ma se potessi scegliere sceglierei di averne due per ogni utente che è passato a linux e poi con la coda fra le gambe zitto zitto è tornato su windows no non sto facendo una sparata a difesa di windows sono io stesso un utente linux ma da tecnico informatico ti posso dire che mentre windows è adatto al 100 per cento praticamente degli utenti linux non può essere considerato altrettanto universalmente valido per tantissime categorie e questo è un dato di fatto ma non voglio suscitare polemiche nei commenti e quindi passo dritto filato ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi e ancora fino a quando non ci restituiranno il nostro canale principale visto che ne sto accumulando diversi da fare coran populo sono destinati solo ed univocamente proprio a te che guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima mio caro gente